Salve ragazzi, questo primo video riguarda la rabbia pre-islamica. Farò dei piccoli piccolissimi video sui nuclei concettuali del capitolo di Geostoria relativo all'Islam o Islam. Questo primo tassello riguarda proprio il contesto che c'è prima della predicazione di Maometto. Per prima cosa bisogna inquadrare il luogo per cui adesso io proietterò qui, come vedete, una mappa e l'area che a noi interessa è quella colorata in questo momento. Vi faccio notare che questi piccoli simboli, come vedete, potete leggere nella leggenda, riguardano la presenza di comunità ebraiche e noi già ci siamo occupati dell'ebraismo e dei movimenti che portarono alla nascita della religione ebraica e quindi alla nascita del monoteismo. Vedete, questi simboli non sono presenti soltanto nell'area interessata specificamente dagli ebrei, e cioè la famosa terra di Canaan e la Palestina, ma sono presenti anche nell'area in cui insiste invece la presenza araba. Per cui è chiaro che già fin dalle origini noi abbiamo la tendenza a determinarsi di alcuni conflitti. Un'altra cosa che vi faccio notare, che si nota da questa carta, è che di fatto il territorio è molto vasto, ma solo poche aree sono caratterizzate da una fertilità e quindi dalla possibilità di essere sfruttate dal punto di vista economico e sono queste aree che trovate in verde. Invece tutta questa area qui, che credo sia anche la gran parte del territorio e che è indicata in giallo, è costituita da deserti e quindi non è un'area facilmente, diciamo, sfruttabile dal punto di vista economico. Bisogna capire che, come al solito, quando si parla di popolazioni antiche, c'è una mescolanza tra, da un lato, gli interessi politici ed economici, dall'altro invece l'elaborazione di una cultura, di una identità che oggi potremmo definire con categorie moderne, nazionale e poi anche gli aspetti di tipo religioso. E' importante quindi concentrarsi anche sulle parole chiave che sono presenti in questo capitolo in modo tale da avere un quadro abbastanza chiaro di ciò che accade nei vari punti di vista. La prima parola chiave che incontriamo quando studiamo l'Arabia pre-islamica sicuramente è quella dei beduini. Questi beduini erano, non erano altro che dei pastori in fondo, erano caratterizzati dal nomadismo, quindi si muovevano all'interno di questo territorio e in particolare insistevano e andavano a incontrarsi e scontrarsi nelle cosiddette vie carovaniere che sono quelle che in questa carta sono bene indicate dalla linea bianca tratteggiata e questi beduini dal punto di vista economico erano delle persone che andavano alla ricerca di volta in volta del luogo ideale dove vivere, dove trovare e ripetere le risorse ma dal punto di vista religioso erano politeisti. Questo è un elemento molto importante perché se ricordate quando abbiamo parlato dell'ebraismo alla suo nascere e quindi degli spostamenti delle popolazioni dei clan, diciamo, proto-ebraici che si spostavano, se ricordate, dalla Mesopotamia verso la terra di Canaan, noi abbiamo già visto che c'era un sostanziale politeismo. Poi in un momento successivo le varie tribù hanno trovato una forma di convivenza e di unità politica e questa unità politica ha avuto anche un riflesso religioso con la nascita del monoteismo. Ecco, una cosa molto simile accade anche per queste popolazioni arabiche perché nella Arabia pre-islamica noi abbiamo una religione tendentemente, oggi la definiremmo pagana, cioè si credeva in tanti dèi e questi dèi erano in un certo senso anche concentrati sugli elementi della natura per cui si faceva molta attenzione agli elementi della natura e c'era una forma di mitologia eziologica cioè che individua le cause, ricordate il mito eziologico, quello cioè che individua le cause di fenomeni naturali che risultano inspiegabili con il mito e con elementi relativi alla divinità. Per cui, attenzione, in questa prima fase c'è il politeismo. Una cosa invece molto importante che risulterà poi centrale nell'Islam, e lo è ancora oggi centrale, è invece ciò che riguarda la famosa Pietra Nera che adesso vi faccio vedere qui. Qua siamo nella città della Mecca, quindi siamo proprio alla Mecca, e all'interno di questa area sacra noi abbiamo, come vedete, questo cubo che vedete qui al centro, questo cubo nero. Questa è la Kaaba. Infatti la parola Kaaba, la parola araba Kaaba, significa esattamente cubo. All'interno di questo cubo è conservata, oltre che ci sono una serie di, diciamo, elementi relativi al sacro, immagini sacre, eccetera, soprattutto c'è la famosa Pietra Nera. Ora, su questa Pietra Nera naturalmente si concentrano le tradizioni arabe che vengono veicolate attraverso una tradizione orale. Questa tradizione orale, questi racconti orali, in arabo si chiamano Hadith, e in particolare noi abbiamo due tradizioni che in un certo senso si intrecciano, ma possono anche essere parallele e quindi possono essere anche distinte. Una Hadith importante è quella che ha per protagonisti Adamo, il famoso primo uomo dell'Eden, insomma, che fu creato da Yahweh, come noi stessi anche che siamo cristiani sappiamo, avendo certamente letto il Libro della Genesi. Ecco, Adamo, secondo questa Hadith, secondo questa tradizione araba, collocò proprio questa Pietra Nera all'interno del cubo, cioè all'interno della Kaaba. Poi in un momento successivo, come sappiamo, ci fu il Diluvio Universale, che ha, come sappiamo, per protagonista invece Noè, e a seguito del Diluvio Universale, l'Arcangelo Gabriele affidò questa stessa Pietra Nera ad Abramo affinché la collocasse in un santuario nuovo, rinnovato, perché chiaramente il precedente era andato distrutto a causa del Diluvio Universale. Ecco, questa è una Hadith importante. Un'altra Hadith, che però si può anche conciliare con questa, sostiene che questa Pietra non è stata fin da subito, fin dall'inizio, fin dall'origine nera, ma che all'origine era bianca, ma divenne nera perché raccolse, potremmo dire, assorbì energeticamente, assorbì tutti i peccati dell'umanità, dell'uomo, e questi peccati dell'uomo hanno annerito questa Pietra, facendola diventare quale essa è oggi, cioè nera. La cosa più interessante è relativa al pellegrinaggio, perché voi sapete che ancora oggi è essenziale, fa parte dei famosi pilastri della fede islamica, recarsi almeno una volta nella vita alla Mecca e quindi rivolgersi verso questa Pietra Nera, e anche la preghiera viene fatta anche in generale nella direzione della Mecca, che non è la Mecca, ma è proprio la direzione di questa Pietra Nera, di questo elemento sacro, che ha un grande valore sacro per gli islamici. Ecco, il pellegrinaggio avveniva già nella rabbia pre-islamica, ma la cosa più interessante, ritengo sia un'altra, e cioè che questo pellegrinaggio non ricordava solo i Beduini e i loro clan, quindi soltanto gli arabi, ma anche gli ebrei facevano questo pellegrinaggio, anche i cristiani. Quindi, questo è un elemento, ritengo particolarmente interessante, e cioè che mette in evidenza come ebraismo, cristianesimo, e diciamo così anche nell'ordine cronologico, l'ebraismo, il cristianesimo e anche l'islam, hanno una radice comune che si vede anche in questo elemento. Quindi, questo è il primo tassello relativo a questo capitolo. Ci saranno, seguiranno altri piccoli video come questo, simili a questo, per gli altri elementi successivi, in modo tale che vi possiate concentrare sullo studio di questo capitolo con la maggiore facilità possibile. Quindi, intanto vi saluto per questo primo, per questa prima clip. A dopo!